Amir Bukris, universale di Pallamano Romagna, sabato andrete a giocare alla palestra cavina di Imola contro Bologna 2 agosto. Pensate che sia la vostra portata? Sì, la Pallamano Bologna 2 agosto è una squadra molto forte ma penso che sia la nostra portata, pochi punti su di noi e sarà una bella partita. Ci sono tanti ex di Faenza che giocavano prima a Mordano a Bologna? Sì, infatti sarà come giocare una partita a scacchi perché loro conoscono molto bene noi e noi conosciamo molto bene loro. La partita secondo me si giocherà sui punti deboli e vincerà chi farà meno errori. Per quanto riguarda la partita contro Casal Grande siete riusciti a portarla a casa? Avete gestito bene il vantaggio secondo te? Sì, abbiamo giocato una bellissima prestazione ma siamo comunque contenti del risultato e siamo comunque riusciti a gestire quel break che siamo riusciti a guadagnare nel primo tempo.